Il primo obiettivo è quello di prolungare gli ammortizzatori sociali per i 50 lavoratori della VECO di Martinsicuro, che ormai da anni lottano per la salvaguardia del loro posto di lavoro dopo il fallimento della Fonderia Teramana. Lunedì, nell'incontro in Regione Abruzzo con l'assessore Pietro Quaresimale, hanno spiegato i sindacalisti di CISL e CGL, si parlerà anche della loro situazione in un contesto, quello della Val Vibrata e più in generale della provincia di Teramo, in cui la crisi del lavoro è profonda e rischia di minare il tessuto sociale. È necessario attivare subito un tavolo con la politica per capire se ci possono essere investitori, innanzitutto per rilanciare la Fonderia, perché è una Fonderia che a regime ha fatto la ricchezza di un territorio e ha fatto anche grandi occupazioni con grandi numeri, ma anche soprattutto chiedere alla politica di rivedere i criteri e tutta la partita dell'area di crisi complessa. Un'area di crisi che, insomma, destinata ad una vallata, quella della Val Vibrata, che di fatto non ha tenuto conto delle caratteristiche della vallata. Per esempio, uno dei criteri per poter prendere i finanziamenti era il dover fare occupazione. In questo caso, per esempio, l'Aveco non ha potuto usufruire di quei fondi perché non poteva fare occupazione, ma l'importante era cercare di mantenerla. Quindi è una situazione drammatica, lo è stato in passato, lo viviamo tuttora e bisogna mettere un freno a questa cosa, bisogna mettere un freno a riparlare di politiche attive del lavoro, di ricollocazione, anche di ammortizzatori sociali, ma l'ammortizzatore sociale è un sussidio che tutti i lavoratori respingono perché vogliono lavorare. Quindi bisogna cominciare a ridiscutere dell'area di crisi complessa, ridiscutere anche dell'area di crisi semplice della provincia di Teramo, perché ricordiamo che la provincia di Teramo è area di crisi semplice, ma nella provincia di Teramo cominceranno ad arrivare i problemi da dopo marzo, quando sarà la fine del blocco di licenziamenti. Il sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, presente al sit-in di questa mattina davanti ai cancelli chiusi dell'Opificio, si è fatto promotore di un incontro da tenere in municipio per un confronto fra parlamentari abruzzesi, regione CICAS e rappresentanti sindacali, al fine di trovare una via di uscita che possa salvare e rilanciare un'attività storica della città. Tutte le istituzioni debbano fare la propria parte per cercare di non farli sentire soli e quindi cercheremo insomma nel tavolo che stiamo organizzando di ascoltarli sì, ma di dare delle soluzioni e delle prospettive a delle persone, dietro le quali ci sono delle famiglie e che quindi non vanno lasciate sole.